Paolo Masella e Letizia Petris costruiscono una vita lontano dai riflettori. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime grandi novità in arrivo per Paolo Masella, l'ex concorrente del Grande Fratello che ha deciso di tornare alla sua vita lontano dalle luci della ribalta. Dopo la conclusione del reality, il giovane romano ha scelto di mettere in pratica i suoi piani per il futuro, lasciando il mondo dello spettacolo per concentrarsi su ciò che ama davvero, il suo lavoro di macellaio. Oggi è un giorno speciale per lui, poiché inaugura la sua nuova macelleria, un progetto che condividerà con sua sorella Chantal. I due hanno deciso di unire le forze e dare vita a un'attività di famiglia, la macelleria Fratelli Masella, un sogno che Paolo aveva annunciato sui social già da tempo, suscitando grande curiosità tra i suoi fan. Paolo, a differenza di molti altri ex geffini che cercano di prolungare la loro notorietà sotto i riflettori, ha scelto di tornare alle sue origini. I soldi non crescono sugli alberi, aveva dichiarato qualche tempo fa, ribadendo la sua passione per il mestiere che lo ha accompagnato per anni. La mia più grande soddisfazione è fare il macellaio, e ora, con mia sorella, abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo cammino insieme. Oggi quel sogno diventa realtà, con l'apertura della loro macelleria, pronta ad accogliere i clienti e a portare avanti una tradizione familiare a cui Paolo e Chantal sono profondamente legati. Ma le novità per Paolo non si fermano qui. Al suo fianco, a sostenerlo in questo percorso, c'è sempre Letizia Petris, la fidanzata che ha conosciuto proprio all'interno della casa del grande fratello. Nonostante alcuni iniziali dubbi da parte del pubblico sulla loro relazione, la storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele. Paolo non esita a condividere sui social momenti di vita quotidiana insieme a Letizia, mostrando un affiatamento che sembra crescere giorno dopo giorno. È evidente che il legame tra loro sia forte, e Paolo non nasconde i suoi desideri per il futuro. Letizia è l'amore della mia vita, e il mio sogno più grande è costruire una famiglia con lei. Con il suo tipico pragmatismo, Paolo aggiunge, «Se non mi rimbocco le maniche, non è roba mia», dimostrando ancora una volta la sua determinazione e i suoi valori. Quindi, mentre il grande fratello si prepara a lanciare una nuova edizione con nuovi volti e nuove storie, Paolo Masella ha già tracciato la sua strada, scegliendo una vita più semplice, ma piena di significato. L'apertura della sua macelleria rappresenta un nuovo inizio per lui, e i fan non possono che augurargli il meglio in questa nuova avventura. Non ci resta che vedere cosa riserverà il futuro a questo giovane imprenditore e alla sua dolce metà. Crepi il lupo, Paolo. Nonostante la sua decisione di tornare a una vita più tranquilla, lontana dai riflettori, Paolo Masella continua a suscitare grande interesse da parte dei suoi fan. Le sue scelte, fatte con umiltà e determinazione, sono viste da molti come un esempio di autenticità e coerenza. A differenza di altri ex concorrenti del grande fratello, che spesso inseguono la fama attraverso programmi televisivi o collaborazioni sui social, Paolo ha preferito concentrarsi su ciò che gli dà davvero soddisfazione, il lavoro e la famiglia. Questa scelta, seppur meno glamour, lo ha reso ancora più amato e rispettato dal pubblico, che apprezza la sua semplicità e il suo spirito di sacrificio. La macelleria che ha aperto con sua sorella Chantal non è solo un'attività commerciale, ma rappresenta anche il simbolo di un legame familiare forte, costruito su valori come l'impegno e la dedizione. Lavorare con mia sorella è un sogno che si realizza, ha dichiarato Paolo con orgoglio in un recente post sui social, e sono felice di poter portare avanti questa tradizione che ha sempre fatto parte della nostra famiglia. La nuova attività, la macelleria fratelli Masella, non è solo un ritorno alle origini, ma anche una testimonianza della sua volontà di rimanere fedele a se stesso, nonostante le opportunità che il mondo dello spettacolo avrebbe potuto offrirgli. Lo scandalo delle offese omofobe di Lino Giuliano a Enzo Bambolina ha ormai fatto il salto dal web alla televisione, attirando l'attenzione di Mediaset. Durante l'ultima puntata di Asterisco Verissimo Asterisco, Silvia Toffanin, moglie dell'editore di Mediaset e conduttrice del programma, ha affrontato l'argomento nel corso di un'intervista a Beatrice Luzzi. La conduttrice ha discusso la possibilità di una squalifica per Lino Giuliano, volto noto di Asterisco Temptation Island Asterisco, evidenziando la gravità delle sue dichiarazioni. Lunedì sapremo se entrerà o meno nella casa, ma quei commenti erano fortemente omofobi, ha detto Toffanin, riferendosi ai commenti fatti da Giuliano nei confronti di Enzo Bambolina, un episodio che ha sollevato numerose polemiche. Nel frattempo, a poche ore dall'inizio dell'Asterisco Grande Fratello Asterisco, Lino Giuliano non è rimasto in silenzio e ha deciso di difendersi pubblicamente attraverso i social. Il futuro concorrente del reality ha condiviso una serie di storie su Instagram, nelle quali ha mostrato messaggi di supporto ricevuti da ragazzi gay che si sono detti non offesi dai suoi commenti. Questo sostegno, secondo Giuliano, dimostrerebbe che le sue parole sono state male interpretate e che non è affatto omofobo. Tuttavia, il geffino ha anche ammesso che il suo ingresso nella casa di Cinecittà è ancora in bilico. «Grazie a tutti per il sostegno. Indipendentemente da quello che accadrà, voglio che sappiate che non sono omofobo. Per il resto, lascerò che sia il destino a decidere», ha scritto Giuliano, lasciando intendere che la decisione finale potrebbe arrivare solo nelle prossime ore. A difesa di Lino è intervenuto anche suo fratello, il quale ha rilasciato un lungo messaggio sui social, prendendo le parti del futuro geffino. «Non sono mai intervenuto nelle questioni di mio fratello, ma ora devo farlo», ha esordito. Strumentalizzare l'omofobia per fare spettacolo è qualcosa di molto grave. Conosciamo tutti questa persona qui a Napoli, ed è noto per essere un provocatore. «Mio fratello è caduto nella sua trappola a causa della rabbia, ma non potete accanirvi contro un ragazzo che non ha nulla di omofobo». Lo dimostrano le sue tante amicizie con persone omosessuali. Nel suo messaggio, il fratello di Lino ha anche sottolineato come la loro famiglia sia cresciuta con valori di rispetto e tolleranza verso tutti, affermando «Noi veniamo da una famiglia che ci ha insegnato a non avere pregiudizi. Siamo amici di chiunque ci rispetti, e mi dispiace che questa persona abbia cercato di mettere mio fratello in cattiva luce solo per ottenere visibilità». Le parole del fratello di Lino Giuliano, tuttavia, non sembrano aver placato del tutto la polemica. Molti telespettatori e utenti social continuano a discutere sull'opportunità o meno di permettere al ragazzo di partecipare all'asterisco grande fratello asterisco. Alcuni ritengono che le scuse e le spiegazioni fornite non siano sufficienti a cancellare la gravità delle sue parole, mentre altri sostengono che Lino meriti una seconda possibilità e che l'episodio sia stato esagerato per ragioni di spettacolo. In ogni caso, il caso è destinato a rimanere sotto i riflettori nei prossimi giorni, e la decisione finale di Mediaset sarà sicuramente seguita con grande attenzione. Nonostante le polemiche e la difesa accorata del fratello, il destino di Lino Giuliano al grande fratello rimane incerto. Molti spettatori sono in attesa della decisione finale di Mediaset, che si troverà a dover bilanciare il desiderio di intrattenimento con la responsabilità di affrontare temi delicati come l'omofobia. Non mancano le voci che chiedono a gran voce l'esclusione del ragazzo dal programma, soprattutto considerando l'importanza del messaggio che una piattaforma così seguita come il grande fratello può veicolare. D'altro canto, c'è chi sottolinea che Lino abbia già mostrato pentimento e che la sua partecipazione potrebbe essere un'opportunità per discutere pubblicamente del problema e promuovere una riflessione più profonda. Molti telespettatori, infatti, vedono nella controversia un'occasione per il programma di prendere una posizione chiara e netta contro l'omofobia, invitando tutti i protagonisti a dialogare apertamente su questi argomenti. Grazie a tutti!